Ragazzi, siamo riusciti a vincere una partita contro la temibile Fiorentina per i risultati 2-1 per la Lazio, ce l'abbiamo fatta, andiamo in finale di Champions League perché è quello il posto che ci spetta Raga, io sto sudando, ho le palpitazioni perché veramente soffrire, perché abbiamo sofferto oggi una partita contro la Fiorentina, non si può, non si può A tutti ragazzi, qui sono visti dal vostro X-Bridge, la Lazio, primo tempo, secondo me ha fatto bene, ha fatto molto bene il primo tempo, mi è piaciuta Devo ringraziare il nostro talismano Ace a Cerbi perché poi il gol che ha fatto Caicedo è arrivato da un suo cross per Lazza, risponde di testa a Caicedo, mezza rovesciata, stupendo gol Quindi grazie Ace, grazie, grazie a Caicedo perché Caicedo ragazzi ci ha salvato la partita oggi perché Immobile davvero era irriconoscibile Vabbè, a parte per l'infortunio, poi anche ha segnato, gli è stato annullato un gol però non ha giocato come gioca di solito, vorrei vedere, stava male, ha giocato comunque Però era Caicedo oggi, tutti, io credevo, cioè tutti gli occhi delaziali su Caicedo perché anche per la trattativa di mercato, Caicedo è la Fiorentina Caicedo ha segnato esultanza della Madonna perché va a baciare la maglia della Lazio, lo scudetto, lo stemma, l'aquila, poi grandissimo abbraccio pure con Patrick E io là già stavo, vabbè, perché dopo c'ho sacche cose di su Patrick, meglio che me calmo Quindi Caicedo grandissimo, ha fatto stati tutti quanti, 1-0, poi vabbè c'è stato anche il gol di Immobile annullato, va bene Quindi andiamo agli spiegatori sull'1-0 e da lì il crollo, proprio un crollo decisivo ragazzi Veramente la Lazio non riusciva più a uscire dalla sua metà campo, Immobile sparito per metà secondo tempo Caicedo che viene cambiato al cinquantesimo, mi sembra cinquantaquattresimo, fatto entrare al suo posto Hack Pack Pro E lì tutti si è incazzati, io stavo vedendo la diretta tipo su un gruppo live biancocilesto e ti dico ma che cazzo fai Inzaghi Immobile, non ha fatto niente fino adesso, sta male Porello, cambia lui, Caicedo sta giocando bene Infatti Caicedo poi si è anche incazzato, io ho visto la sua espressione in panchina perché è stato cambiato per mettere poi Hack Pack Pro Ma va bene, si va avanti, entra anche Patrick al posto di Luis Felipe e Patrick e Stragoscia ci regalano quelle sensazioni di autogol Perché Patrick con i suoi retropassaggi, ma non retropassaggi comunque rasodera, no al volo Poi ne manco era un retropassaggio perché era, allora io ho fatto scuola calcio qualche annetto Mi sempre stavo detto se gioco difensore da non passare la palla al portiere ma non diagonalmente o all'indietro Ma perpendicolarmente, non so come cazzo si dice, ok? Io sto qua e il portiere sta all'anno, non è che gliela passo così? Un po' diagonale, no Patrick gliela passa perfettamente dritta a Stragoscia, lenta Palla anche un mezzo pallonetto perché l'ha presa al volo E ci stavano inculando così per grande Stragoscia, grande, aspetta fermi tutti Grande Stragoscia che è riuscito comunque a sventare questo pericolo E poi grandi assedi comunque della Fiorentina perché ragazzi la Fiorentina ci ha assediato tutto il secondo tempo Ci ha assediato Savic, Milinkovic, Savic ci ha salvato da un gol già fatto Perché Stragoscia era stato abbattuto, Castrovilli bellissimo tiro Milinkovic sulla linea di testa la butta via Quindi grazie anche a te, Santo Milinkovic Poi arriva il gol di Immobile Inaspettato perché Immobile non stava giocando bene E' arrivata questa palla grazie poi ad un corner Un vario mischione lì in mezzo Arriva questa palla, spara un missile contro Drakowski E gol Quindi Immobile, dai E' riuscito anche a trovare il gol nella condizione in cui stava Perché ragazzi Immobile non stava bene Questo bisogna precisarlo Poi dopo da quel momento lì Un'altra volta il crollo, un'altra volta Finché non arriviamo Eeeh Ah vabbè, poi vabbè C'è stato il cambio Murici, Immobile, Murici, Immobile Murici ha avuto un'occasione Un 1 contro 2 Gli hanno rubato palla ovviamente Eeeh sì Poteva andare diretto verso la porta 1 contro 2 Ha provato un mezzo tunnel Ma non è riuscito Porello Eeeh Arriva questa occasione Stragoscia 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 che passa la palla Non mi ricordo se a Milinkovic Ma con una lentezza tale Che una tartaruga Avrebbe vinto Il gran premio di Formula 1 Eeeh Gli rubano la palla Calcio di rigore per la Fiorentina E segna per la Fiorentina 2-1 E ancora assedio 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 Poi Quindi Stragoscia e Patrick In pratica Da sparaglie Ste partite E così Stragoscia è stato comunque preferito A Reina Un po' di riscatto Per questa partita Che poi ragazzi Ragazzi Stragoscia ha fatto De tre parate oggi Perché Ambra bat Poi al 94esimo Dopo i 5 minuti di recupero Che l'arbitro ha dato Ambra bat Tipo al limite Dell'area di rigore Dopo mi sembra un corner Era una punizione Adesso mia mente sta volando In questo momento Tira questo Fallone Mezzo raso terra Mezzo Però Bello Bello teso Perfetto all'angoletto E Stragoscia si distende bene E para questa palla Se non ci fosse stato Stragoscia Eeeh Sarebbe arrivato il 2-2 Quindi Stragoscia si Ha fatto cappellate Però Gli spezzo una piccola lancetta Per dire Vabbè Qualche parata ha fatto Anche se non esce più Perché ragazzi Stragoscia non esce Cioè stava Acerbi Ogni volta che Gli teneva l'uomo Aspettando una sua uscita Ci metteva due ore Acerbi faceva prima Andare in porta con l'uomo Prima che Stragoscia uscita Però Comunque abbiamo vinto 2-1 Sofferta Sì ma ci voleva Raga perché Veramente Perdevamo pure con la Fiorentina O pareggiavamo pure con la Fiorentina Sarebbe stata tosta E dal vostro XB è tutto Lasciate un like Commentate Iscrivetevi E niente Sempre forza Lazio Speriamo che continuiamo così Non così Soffrendo Ma vincendo Alla prossima